Buongiorno a tutti ragazzi, nel podcast di oggi parliamo di Bitcoin e di report trimestrale Mystery Stocks. Allora, Bitcoin, non so per quale motivo, ma sta dando qualche segnale di risveglio. Nel senso, fino ad oggi il sentiment è stato particolarmente negativo e anche con poco interesse. Mentre nella giornata di ieri sera, stamattina, abbiamo avuto un risveglio con il grafico che sta cercando di uscire da questo triangolo discendente. Solitamente cosa succede in questi grafici? O il grafico continua e quindi effettivamente è un segnale che può continuare, può avere forza, oppure potrebbe anche semplicemente prendere lo slancio per andare a rompere al ribasso. Oggi non so darvi una risposta. Quindi il mio suggerimento è, mentre prima Bitcoin era fuori dalla mia lista degli attenzionati, perché era un non pervenuto, siccome non voglio andare short più su Bitcoin, ma ho solo intenzione di fare operazioni di natura long, era fuori dalla lista. Oggi è entrato nella lista e vediamo che cosa succede. Non entro ancora, sto a verificare se effettivamente questa forza è una forza reale che viene mantenuta, oppure è semplicemente, come dicevo, un trampolino di lancio per scendere. Poi nel link sotto vi ho indicato il report trimestrale e il mystery stocks. È un'idea che ci è venuta, cioè che segue la seguente logica. Quella di dare dei tools, degli strumenti che possono essere utili alle persone per poter fare trading e investimenti di meglio e lungo termine con un rapporto di profittabilità più elevato. Sapete che io sono un po' ossessionato, ma secondo me è la chiave di svolta, sta proprio lì, sul sentimento di mercato. Cioè quando io vado a fare un investimento, la differenza tra un investitore che non conosce il sentimento e che non capisce quale è il sentimento di mercato e opera esclusivamente secondo un'analisi tecnica e uno invece che abbina l'analisi tecnica al sentimento di mercato, fa aumentare la performance in maniera drammatica di 20, 30, 40 punti percentuali dal mio punto di vista. E quindi il report trimestrale è proprio questo, cioè andare a comprendere che cosa sta accadendo sul mercato, ma soprattutto che cosa ci aspetterà nel trimestre successivo. Quindi il report è un report che prevede quattro uscite ogni trimestre che seguono le logiche anche dei grandi investitori. Cioè i grandi investitori si siedono, ci sono dei board, in alcuni casi partecipo anch'io in alcuni board di questo genere, andiamo a fare una vision di quello che potrebbe essere, di quello che noi ci aspettiamo e quindi c'è un confronto aperto fra i professionisti che si confrontano e vanno a definire un po' le linee guida macro di quello che ci si può aspettare nel trimestre. Una volta definite queste, che è quello che è trovato all'interno del contenuto di questo report, a 360 gradi, quindi si parla di valute, si parla di commodities, si parlano di indici, si parla di tasse di interesse, si parla di bond, si parla del mercato a 360 gradi. Capito questo, capiti che quindi sono le linee glide, punti di forza, punti di debolezza, si va poi a definire, quindi lo step successivo è quello della definizione di una strategia operativa. Però prima bisogna capire qual è il quadro intermarket, perché se il quadro intermarket, faccio un esempio del bitcoin di cui abbiamo parlato prima, ci dice che le cripto, probabilmente per il prossimo trimestre ci possiamo aspettare esiti assolutamente negativi o comunque hanno bisogno di tanto tempo per potersi riprendere, su quell'asset per quel trimestre non si andrà a investire. Quindi prima si definiscono linee guida e poi si va verticali su che cosa andare a comprare o vendere sul singolo asset. In più abbiamo aggiunto, sempre per cercare di dare la massima qualità possibile, il mystery stocks. I mystery stocks sono quegli stocks che ogni tanto avete visto che vi ho segnalato, qui ne segnaleremo di più, quegli stocks che secondo me rappresentano in uno specifico momento, quindi a livello di timing, perché secondo me l'altro elemento importante è la definizione del timing, rappresentano un momento ideale di ingresso. Il momento ideale qual è? Il momento dove il rapporto tra rischio e rendimento è il migliore possibile, cioè quindi la possibilità di upside è molto più elevata di quella di downside e in caso di downside ho uno stop molto più contenuto. La somma di queste operazioni, che ovviamente non sono sempre infallibili, però la somma di queste operazioni hanno un'alta potenzialità di risultato positivo e quindi sono interessanti. Quindi per tutti gli abbonati a questo servizio di report riceveranno anche queste mystery stocks che dipenderanno, noi non sappiamo esattamente il numero, ma dipendono dal numero di opportunità che ci sono. Questa è una fase positiva, propositiva e quindi ci sono varie opzioni. Una di queste l'abbiamo segnalata anche oggi e anche nella giornata di ieri, perché è una fase particolarmente interessante. Poi in un futuro comunque si potranno segnalare sia operazioni a rialzo sia operazioni a ribasso. In questa fase qua secondo me è più propedeutico, siamo in una fase rialzista, indicare o cavalcare situazioni rialziste, proprio perché il sentiment ci suggerisce che le operazioni rialziste hanno più probabilità di successo rispetto a quelle ribassiste. Come sempre se ci sono dei dubbi o delle domande o me le mettete qua nei commenti oppure entrando dentro il sito potete poi contattare direttamente la chat di assistenza per dubbi, domande, iscrizioni eccetera eccetera. Come sempre vi mando un grande abbraccio e spero di avervi dato un ulteriore valore raggiunto. Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio. Grazie a tutti